C'è la necessità di reagire e l'auspicio è che magari possa aiutarvi un po' il Celeste che è sempre stato il punto di forza di questa squadra. A parte il Celeste si deve reagire, da quattro partite che manca la vittoria sicuramente diventano fondamentali questi tre punti per cercare di invertire questa tendenza. Cosa è successo? Le ultime gare sono state sempre piuttosto simili con tante buone opportunità sprecate, l'impressione è che si poteva raccogliere qualcosa in più, non ci siete riusciti? Sicuramente non è un periodo fortunato, gli episodi in queste giornate hanno un po' fatto la differenza, ma noi siamo consapevoli che magari ci sono stati anche degli errori, un po' degli errori, un po' come dicevo prima gli episodi che sicuramente non sono stati favorevoli, però dobbiamo reagire, dobbiamo cercare di invertire questa tendenza come dicevo prima con una grande prestazione e cercare di portare a casa i tre punti. Si temeva un disimpegno almeno parziale da parte della proprietà che invece continua a rilanciare, le mette a disposizione anche un altro over al centro della difesa, qualche alternativa in più e probabilmente la gioventù vi ha sicuramente penalizzato in questa prima metà di campionato. Per quanto riguarda la società non avevo assolutamente nessun dubbio, ci sono sempre stati vicini, ci hanno sempre messo a disposizione qualunque cosa per fare bene. Per quanto riguarda la giovane età è sicuramente un dato di fatto, l'età media-bassa probabilmente in qualche episodio, in qualche gol ha sicuramente influito, però abbiamo tutti i numeri, lo abbiamo dimostrato ampiamente anche in questa prima parte di stagione per venire fuori da questo periodo. C'è la possibilità di vedere subito titolari i nuovi, D'Angelo e Bon Giovanni che faranno il loro esordio, almeno al Celeste? Ma è presto per dirlo, D'Angelo è due giorni che è con noi e sicuramente dal punto di vista fisico è molto più preparato di Bon Giovanni, Bon Giovanni stiamo cercando di mettergli i più minuti possibili, cercare di farlo entrare proprio nel ritmo partita, però sono cose che valuteremo anche in virtù degli under solo all'ultimo momento. Quanto vi hanno penalizzato le voci di mercato? Ma sicuramente non è un periodo favorevole per una squadra, se da un lato ci riempie di orgoglio, perché se i nostri giocatori, non passa giorno che il nostro direttore sportivo non abbia una richiesta per i nostri giocatori, questo sicuramente non può fare altro che piacere perché significa che abbiamo puntato negli uomini giusti, però dall'altro lato posso dire che in qualche modo sicuramente può influire. Più crisi di risultati che di gioco in queste partite che abbiamo visto, anche se in tutti i 90 minuti non giocatelo con la stessa intensità, abbiamo visto delle trame di gioco sempre ottime. Ma io dal punto di vista della prestazione ho sempre detto che ho poco da dire a questi ragazzi, come dicevo prima probabilmente magari l'età media bassa in qualche occasione ha sicuramente... Un errore banale di troppo forse. Sicuramente questo è sicuro, però devo dire che siamo sempre stati in partita, noi qualsiasi gara abbiamo perso, l'abbiamo persa o 2-1 o 1-0 con... Partite quasi sempre però con il gap di uno o due gol sotto, prima che voi altri reagiate, diciamo, c'è stato sempre questo problema. Vi riprendete subito dopo aver subito il gol? Ma è vero, ci sono state anche partite in cui stavamo, come posso dire... Parliamo delle ultime. Sì, come posso dire, stavamo un po' conducendo la partita, poi purtroppo nel calcio sappiamo benissimo che gli episodi molto spesso fanno cambiare l'andamento della partita, però, come dicevo prima, siamo sempre stati in partita con qualunque squadra, non c'è stata squadra che ci ha messo sotto, anzi abbiamo cercato fino all'ultimo secondo di rimetterci in gioco. Questo significa che la squadra è viva, che la squadra mette in pratica quello che facciamo durante la settimana. Dobbiamo cercare di ricostruire quel filotto di vittoria che mette da parte tutti gli altri dubbi. Ci saranno ancora movimenti di mercato in entrata e in uscita? No, io intanto penso a questa partita con lo Paternò, perché è una partita che io reputo fondamentale per la nostra crescita. Dobbiamo pensare all'avversario, perché è un avversario di spessore, vince in campo e fuori dal campo e questo ti lascia un po' preoccupato. Intanto pensiamo a questo, la società è sempre attenta, il direttore è molto attento a quello che succede nel mercato e poi vediamo tutto il resto. Come si può reagire dopo quattro sconfitte consecutive, compresa quella di Coppa Italia, come ha visto psicologicamente la squadra in quest'ultima settimana? La reazione deve essere dentro ognuno di noi, perché è inutile negarlo, è un momento particolare, dopo qualsiasi sconfitta ci vuole il carattere, la determinazione per uscirne fuori, ci vogliono le grandi prestazioni. Io sono convinto che questi ragazzi ce l'hanno ben chiaro, sanno dove abbiamo i limiti, dove abbiamo i nostri punti di forza, dobbiamo cercare di invertire questa tendenza con una grande prestazione domenica. Ciao! 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 Ciao!